2, 1, partito! Scoprire i segreti della televisione è un gioco da ragazzi. Al macro destaccio di Roma, con RAI porte aperte, i più giovani, dai 5 ai 15 anni, imparano a realizzare un'intervista, ad usarla a telecamera, ai microfoni, il mixer audio e video. Insomma, sperimentano come realizzare un vero programma in un autentico studio televisivo. Mi chiamo Perdeus, ho 11 anni e oggi a fare la giornalista mi sono divertita molto. Questa mattina ho imparato a usare la telecamera e mi piacerebbe molto farla da grande. Ho scoperto tutto quello che c'era dietro le quinte e non mi aspettavo così difficile. A svelare i trucchi del mestiere, i tecnici della direzione e produzione TV di Roma e della RAI si conclude domani un ciclo di tre settimane all'interno del Roma Europa Festival Kids dedicato all'incontro tra le giovani generazioni, la radio e la televisione. Abbiamo avuto circa mille bambini che hanno giocato con noi a fare televisione e a fare radio e si sono meravigliati e stupiti dei mestieri della televisione. Inizia da parte del progetto ideato della direzione e comunicazione della RAI partito all'inizio anno che apre le porte delle sedie e dei centri di produzione in tutta Italia.